VEDO CHE HAI TROVATO IL SACRO PESCO DELLA CELESTIALE SAGGEZZA Oh! Ah, e questo, mi spiace, credevo fosse un normalissimo pe... Capisco. Tu mangi quando sei sconvolto. Sconvolto? Non sono sconvolto. Cosa vi fa pensare che sia sconvolto? Allora, perché sei sconvolto? Probabilmente oggi ho fatto più schifo io di chiunque altro nella storia del Kung Fu. Nella storia della Cina. Nella storia dello schifio. Probabilmente. I cinque. Caspita, dovevate vederli? Mi odiavano una cifra. Una cifra. Come farà Shifo a trasformare me nel guerriero dragone? Insomma, io non sono come i cinque. Beh, non ho artigli, né ali, né veleno. Perfino matti da quelle... cositte. Forse dovrei mollare e tornare a fare gli spaghetti. Mollare, non mollare. Spaghetti, non spaghetti. Ti preoccupi troppo di ciò che era e di ciò che sarà. C'è un detto. Ieri è storia. Domani è un mistero. Ma oggi è un dono. Per questo si chiama presente. Maestro, maestro. Io ho... è una... una bruttissima notizia. Ah, Shifo. Esistono solo le notizie. Non sono né belle né brutte. Maestro, la vostra visione... la vostra visione era giusta. Tai Lung è evaso di prigione. È diretto qui. Questa è una brutta notizia. Se tu non credi che il guerriero dragone possa fermarlo. Il panda? Maestro, quel panda non è il guerriero dragone. Lui non dovrebbe nemmeno trovarsi qui. È stato un caso. Il caso non esiste. Sì, lo so. L'avete già detto. Due volte. Beh, neanche questo è stato un caso. E fanno tre. Mio vecchio amico. Il panda non addempirà mai al suo destino, né tu al tuo, finché non rinuncerete all'illusione del controllo. Illusione? Sì. Guarda quest'albero, Shifo. Non posso farlo fiorire quando mi aggrada, né farlo fruttificare prima del suo tempo. Ma delle cose le possiamo controllare. Posso controllare quando cade la frutta. E posso controllare... Dove piantare il seme. Questa non è un'illusione, maestro. Ah, sì. Qualunque cosa tu faccia, quel seme crescerà e diventerà un pesco. Magari tu desideri un melo o un arancio, ma otterrai un pesco. Ma un pesco non può sconfiggere Tai Lung! Può darsi di sì, se sei disposto a guidarlo, a nutrirlo, a credere in lui. Ma come? Come? Mi serve il vostro aiuto, maestro? No. Tu devi solamente credere. Promettimi, Shifo. Promettimi che tu crederai. Io... Io ci proverò. Bene. È giunta la mia ora. Devi continuare il tuo viaggio senza di me. Cosa state? Aspettate. Maestro! Non potete lasciarmi. Tu devi credere. Maestro! La maestro! Senza chai. Maestro! La mia attrazione. Quattro! Quattro! Cosa. Chiara! Poi. Katra! Grazie a tutti.